Mister, si affronta l'ultima fatica del campionato, una partita contro la Juventus. È quasi bello però andarla a affrontare così, dopo la salvezza, con la certezza di rimanere in Serie A, anche con magari più tranquillità, più serenità, più spensieratezza. Sicuramente siamo più tranquille da quel punto di vista. Certo che abbiamo ancora questo impegno che per noi è molto importante. Dobbiamo comunque chiudere il nostro campionato al meglio delle nostre possibilità. Sarà sicuramente una partita difficile perché loro vengono qui a giocarsi tutto il loro campionato e noi abbiamo la tranquillità dell'obiettivo già raggiunto. Detto questo sicuramente non lasceremo nulla al caso. Stiamo preparando la partita come abbiamo preparato tutte quelle del campionato, quindi fino ad oggi. E faremo lo stesso per questa. Ecco, c'è quasi la voglia comunque di confrontarsi contro una squadra del genere, una squadra che se vince sabato sarà campione d'Italia. C'è anche curiosità di provare ad affrontare queste giocatrici? Sicuramente mi auguro che le ragazze abbiano questo desiderio e questa voglia di confrontarsi e di vendere cara la pelle comunque a prescindere da tutto quello che succederà in campo. Noi abbiamo questa fortuna di avere queste ragazze giovani che avendo già un obiettivo raggiunto possono andarsi a giocare questa partita in tranquillità, sempre comunque tenendo ben presente che noi entriamo in campo per fare il nostro meglio e per cercare di vincere una partita, essendo comunque consapevoli che i due valori in campo sono totalmente differenti. Com'è stata questa settimana, i primi giorni dopo la salvezza? E come saranno però anche le ultime ore in vista della Juventus? Diciamo che le ragazze hanno continuato i festeggiamenti anche durante la settimana e quindi sono molto contenta di questo, sono molto contenta per loro. Già da martedì comunque abbiamo la testa concentrata verso questo ultimo impegno. Oggi inizieremo a preparare qualcosina, domani mattina faremo la rifinitura per essere pronte al meglio al grande impegno di sabato alle 12.30.